Un'operazione iniziata alle 5 di questa mattina, più di 80 uomini della Polizia Forestale impegnati nell'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di L'Aquila. Le ipotesi di reato al momento sono traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale. Al centro dell'operazione due società, il Consorzio di Bonifica, situato a Chietiscalo, e la Depuracqua SRL di Salvagliezzi, che gestiscono gli impianti di depurazione. Dalle indagini sono emersi indizi di colpevolezza in merito ad un traffico illecito di rifiuti, accettati dal Consorzio in assenza delle necessarie analisi alla formazione di documenti alterati ed errate modalità di smaltimento delle acque reflue. Per l'intera giornata, gli uomini della Forestale hanno controllato ogni cisterna presente all'interno della Società Depuracque per appurare il contenuto e accertare la relativa documentazione dichiarata. Al contempo hanno svolto una verifica dei documenti relativi alle autorizzazioni anche presso la sede della regione di via Passolanciano a Pescara, dove è situato l'assessorato all'ambiente.